Questa domenica è stata a dir poco speciale. A mezzanotte abbiamo festeggiato il compleanno di mio fratello che è diventato maggiore M. Ma partiamo dall'inizio. Salita colazione con fette biscottate, filadelfia e marmellata accompagnate da un cappuccino di soia. Ho poi fatto velocemente skin care e sono passata a sistemare la stanza, che come ogni mattina era in condizioni pietose. Dopodiché ho finito di editare il video per mio fratello, che avrei pubblicato a mezzanotte spaccata, e poi ho stampato la lettera che gli ho scritto, in blu perché l'inchiostro nero era finito. Ho poi provato a ricreare il latte makeup con scarsi risultati, per poi realizzare un reel in cui provavo gli abiti e voi mi dovete aiutare a scegliere. Per riprendermi da tutto quel trucco poi ho fatto una maschera all'argilla purificante. Abbiamo pranzato tutti insieme con delle freselle al pomodoro e i fiacchi di latte. Ho poi riletto la lettera che ho scritto per Matteo e mi sono commossa per l'ennesima volta. Ho poi preso un pa' di sole in giardino e dopo mi sono messa ad aiutare mamma in cucina. Per cena ha preparato degli spaghettoni, bongole e bottarga, che sono stati veramente una vera e propria goduria per il palato. Stavolta li sei superata. Sono poi arrivate le mie migliori amiche che mi hanno aiutato a sistemare tutto il giardino e le ultime cose per la festa. Abbiamo messo sul tavolo un po' di cose da mangiare e da bere e allestito il giardino con i palloncini a forma di 18. Devo ammettere che mi fa strano solo il pensiero di sapere mio fratello mangiare a me. Tanto per me sarà per sempre il mio piccolino da proteggere, anche se è il doppio di me. A qualche minuto dalla mezzanotte abbiamo tirato fuori la torta, ha stappato diverse bottiglie di prosecco e poi papà ha fatto partire qualche fuoco d'artificio. Mi prego, guardate che genere mio fratello e mia mamma. Ha poi spento le candeline e poi sono arrivati a sorpresa anche i nostri nonni. E poi è arrivato il momento più bello. Gli ha dato la lettera che ho scritto con tanto amore per lui. Veramente in quelle righe ci ho messo il cuore. Era una settimana che lavoravo a questa lettera perché veramente volevo che gli arrivasse tutto il mio amore. E devo dire che in qualche riga ci sono riuscita. Ha poi aperto il mio regalo e se l'ha messo subito. E per concludere ha letto anche la lettera che gli ha scritto mamma. Un bacione, a domani.